Noi stessi abbiamo scelto di venire a vedere l'opera in un momento molto speciale, quindi l'alba sul lago, approfittando anche di una bella giornata di sole finalmente. E' anche bello che ci possa essere una vetrina internazionale su questo posto meraviglioso della nostra regione, che magari non è così conosciuto. Noi lo conosciamo perché veniamo spesso qui, avendo la sua famiglia e una casa qua sul lago di Seo. Però è molto bello che sia così valorizzato. Stiamo cercando di rendere un po' più bergamasca questa passerella di Cristo. Mi sembra che si sia riusciti perché c'è un bel clima anche in città. I commercianti hanno fatto la loro parte e da oggi moltissime vetrine del centro porteranno un segno che le ricollega a quest'opera. Saranno impacchettate con questo film trasparente arancio, che è lo stesso colore della passerella. E poi altre manifestazioni. Abbiamo organizzato navette gratuite dall'aeroporto di Orio, che quindi credo diventerà davvero il principale luogo di arrivo da tutta Italia, forse dall'Europa, per venire a vedere la passerella. E il giorno dopo, appena finisce questa installazione sul lago di Seo, c'è l'abbraccio delle mura. Per cui cercheremo di costruire una staffetta tra queste due grandi cose. Tutte le sue opere sono così, è secondo me un artista straordinario, che fa dei progetti che sembrano irrealizzabili. Siamo molto contenti che abbia scelto proprio questa zona e questo posto per realizzare questo. Sì, poi fa piacere che sia riuscito a fare una cosa che gli era stata impedita in tanti luoghi del mondo, si è riuscito a farlo in Italia, da noi, noi passiamo per essere i re della burocrazia eppure per una volta siamo riusciti, credo grazie all'impegno soprattutto dei sindaci di questo lago, a rendere possibile un'operazione complicata obiettivamente come questa qua. Quindi fa una buona pubblicità all'Italia.